lì nella solitudine tesolata senza turismo nell'inverno ma avevo finito il romanzo prima scesura anche ci ha mandato alla mia casa editrice e poi è esploso proprio un anno fa diciamo l'arrivo all'esbo la cosiddetta crisi dei migranti e questa isola lesbo solo qualche chilometro distante della costa turchia con mezzi se il mare è tranquillo senza problemi ma nell'inverno così intanto è diventato l'isola dei morti perché i pescatori sono traumatizzati invece di pescare la pesce trovano pezzi di umane di gente così e io ho tentato perché la mia casa editrice ha detto ah devi solo trovare diciamo come si dice dare al tuo romanzo un'attualità ma è impossibile io ho scritto in diciamo con l'affetto di ricordi al nascere al crescere di mia figlia perché gli altri sono tutti maschi che però è l'unica femmina mi sentivo la prima volta veramente padre avendo una femmina perché con i ragazzi questi sono simpatici ma è un'altra cosa un'altra essere umano un maschio e e